Ed iniziamo con la spollonatura, la spollonatura innanzitutto che cosa significa? Andare ad eliminare i polloni, i polloni sono quei rami, quei germogli che crescono dalla parte della derivazione dei nostri capi a frutto verso il basso, verso il tronco, quindi questa spollonatura si fa quando il pollone quindi il germoglio, la parte vegetativa di questa pianta è quei 10, 15, massimo 20 centimetri, saremo verso aprile maggio, vedete voi in base alla località climatica, perché quando sono così teneri si tolgono in modo molto molto semplice, basta veramente poco, si va a forzare con una mano in basso verso, al contrario diciamo come cresce il germoglio e abbiamo eliminato il pollone, perché si toglie il pollone? Perché altrimenti lui crescerebbe in modo molto molto vigoroso e andrebbe a togliere energia linfa quindi alla pianta che non potrebbe certo andarla a dare invece sui capi a frutto, sui tralci che portano uva, quindi avremo uva un po' più piccola. Si tolgono tutti quanti i polloni fino appunto alla derivazione delle nostre dei nostri capi a frutto, quindi si vanno anche ad eliminare questi sulla testa di salice, si eliminano tutti quanti i polloni in questo modo qua, semplicemente ok? Chiaramente i polloni non devono essere tolti se noi abbiamo deciso di rinnovare la nostra pianta, a quel punto si lascerà. Tutta questa parte vegetativa che rimarrebbe in basso è vicino al terreno e potrebbe essere la prima a ricevere insetti e patologie fungine, poi le potrebbe anche andare a trasportare sul resto della chioma, invece così facendo noi rendiamo una struttura più libera dove circola meglio aria, luce e quindi si ammalerà sicuramente di meno. La scacchiatura in che cosa consiste? Consiste nell'andare ad eliminare dei tralci concorrenti che sono sulla parte fruttifera del nostro ramo e innanzitutto si fa quando è aprile maggio diciamo, qui siamo anche già in ritardo e siamo al 20 maggio, si fa eliminando il ramo concorrente quindi il tralcio concorrente sul tralcio che noi dobbiamo lasciare. Allora dobbiamo sapere che la gemma della vigna sul trancio che noi lasciamo è una gemma mista, è una gemma che è costituita generalmente da due o tre gemme, ci saranno una gemma che è quella centrale che è quella migliore, che è quella che porta frutta, eccola qua, vediamo qua un grappolo di uva in prefioritura e ci saranno poi uno o due getti concorrenti che sono nelle gemme laterali che però non portano uva. È chiaro che se io lascio questi due germogli vegetativi sulla pianta uno mi dà frutto e uno no, allora io vado ad eliminare quello che non è a frutto, semplicemente tirandolo verso il basso in questo modo qua, lo elimino perché questo è un concorrente, perché questo porterebbe via energie al mio ramo invece che è fruttifero e poi essendo due uno vicino all'altro si vanno un po' troppo ad intrecciare, la pianta diventerebbe troppo folta, non circola aria, non circola a luce, insomma ho sicuramente molte molte, molti affetti positivi eliminando questa concorrenza. È una potatura quindi questa qui della scacchiatura molto molto importante e ci vuole un po' di pazienza, si sa però una volta fatta sicuramente la nostra vite si ammalerà di meno perché circolando aria e luce e i trattamenti possono penetrare all'interno, sicuramente le patologie fungine e gli insetti ci saranno molto molto meno. La scimatura, quando noi siamo verso giugno i tralci oramai saranno talmente tanto lunghi che possono andare fuori sagoma di allevamento della nostra vite, allora quando il tralcio inizia a diventare così lungo, perché questi tralci cresceranno fino a 2-3 metri, ci conviene andarla ad un certo punto a cimare, ossia ad eliminare l'apice vegetativo, si fa da giugno in poi che cosa accade quando io vado a cimare questo tralcio? Succede che la pianta, eliminandolo in questo modo, la pianta qui non potrà più crescere e a questo punto si genereranno dai getti ascellari tutte quante femminelle. È chiaro che questa parte vegetativa io adesso la dovrò lasciare perché ho proprio indotto la pianta a fare questa parte vegetativa, questa si sarà qui un getto chiamato femminella che darà delle foglie, delle foglie nuove, oramai queste iniziano a diventare un po' vecchie, un po' adulte, mentre le foglie nuove che nasceranno sulle femminelle mi daranno nuove risorse, nuova energia, nuova sintesi clorofiliana che daranno nella stagione che va da giugno luglio in poi nuova attività e quindi nuova linfa e nuova parte zuccherina da andare ad alimentare i miei frutti. La cimatura va sempre effettuata come minimo lasciando quelle 10-12 foglie prima del taglio, quindi contate che ci siano almeno quelle 10-15 foglie, ma si fa anche molto presto, basta che sia lunga un metro e mezzo e automaticamente ci saranno quelle 10-12 foglie, quindi si va a tagliare se l'apice è tenero anche piegandolo al nodo, se l'apice è molto duro che inizia ad essere un tralcio bello lungo, con un paio di formici. In questo modo io poi riduco la parte vegetativa della pianta, quindi la luce, l'aria entrerà meglio, circolerà meglio, anche i trattamenti stessi, mentre io passo con i miei mezzi riusciranno a penetrare verso la chioma della pianta e quindi riuscirò a trattarla meglio, meno patologie fungine e meno insetti ci saranno sulla nostra pianta. La sfemminellatura, siccome abbiamo detto che noi abbiamo cimato il tralcio fruttifero, e comunque sia anche se non l'avessimo cimato per dare più energie ai frutti e far sì che le femminelle nascano quando il tralcio della vite si allunga automaticamente nasceranno femminelle, noi dobbiamo andarle ad eliminare una parte, altrimenti davvero diventa una selva, d'accordo che mi servono femminelle con nuove foglie e per far sì che le energie della vite della pianta siano di nuovo attive da luglio in poi, però non devono essere neanche troppo forte. Quindi quando le femminelle che iniziano a nascere alla base del tralcio fruttifero, iniziano ad essere troppe, io le vado ad eliminare, vado a sfoltire un po' queste femminelle, dovrò farle in un modo chiaramente equilibrato, dovrò sempre tener conto di lasciare una chioma abbastanza libera per far sì che i trattamenti riesca a darli e fare sì che penetri luce d'aria, ma non devo neanche eliminarle troppe. Quindi quando queste femminelle sono a quell'altezza di una decina di centimetri, quindi sono molto croccanti, io vado ad eliminarle semplicemente così, in un modo semplicissimo, se invece sono oramai troppo cresciute dovrò andare ad utilizzare un paio di forbici. La sfogliatura o sfogliazione o spampanatura, chiamatela come volete, si tratta di andare ad eliminare dal momento fenologico della fioritura della vite in poi fino all'invagliatura, le foglie che vanno un po' a coprire il nostro grappolo, si iniziano a deliberare, ad eliminare dalla parte del traccio fruttifero da dove nasce, dal legno vecchio, quindi si va in modo graduale, si inizierà quando sarà giugno, si vanno a eliminare magari un paio di foglie, in questo modo qua. Poi pian piano, man mano che si va avanti nel tempo, si vanno ad eliminare altre foglie, ok? Se ne eliminano il massimo circa sei diciamo su ogni traccio fruttifero e comunque si vanno anche ad eliminare quando inizia la maturazione, quindi l'invagliatura del grappolo della nostra pianta, anche quelle che coprono il nostro grappolo di uva, in modo che il sole arriva bene, i trattamenti posso farli arrivano bene. Ed infine abbiamo l'eliminazione dei grappoli dell'uva, quando si fa si fa subito appena noi vediamo formato il grappolo dell'uva e prima che lui fiorisca, questa è la fase fenologica. Quanti se ne levano? Allora innanzitutto dobbiamo dire che un tralcio fruttifero può portare al massimo due grappoli, quindi si elimina se c'è il terzo e si va ad eliminare chiaramente quello più distante perché è quello alimentato nel peggior modo e se ne lasceranno solamente due, però ora dovete vedere voi quanto è vigorosa la vostra pianta e quanti bisogna lasciarli, ad esempio una pianta che è molto vigorosa o è giovane può anche alimentare su tutti i tralci due grappoli ben formati di uva, ma se voi avete un'uva invece che è poco vigorosa vi toccherà lasciarne un po' di meno, dipende quindi dalla varietà, dall'età della pianta, da come è stata fertilizzata, ma dipende anche da come abbiamo potato la nostra uva, se noi abbiamo lasciato una vite molto lunga, quindi abbiamo fatto una potatura a lungo, ci saranno chiaramente molti tralci e ci saranno chiaramente molti grappoli di uva, a quel punto noi possiamo andare ad eliminare un po' di grappoli di uva, altrimenti quest'uva non è ben alimentata e sarà con poche parti zuccherine, quindi un vino un po' leggero, se invece abbiamo potato a corto chiaramente ci saranno pochi tralci fruttiferi a quel punto, possiamo lasciarne tutti, oppure toglierne qualcuno, perché meno diciamo grappoli di uva ci sono e meglio saranno alimentati, quindi avremo un vino buono e gustoso. Quindi adesso a questo punto sull'eliminazione dei grappoli dell'uva ragazzi vi dovete un po' regolare voi, con la vostra anche esperienza. Vi saluto qui ragazzi, un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale se non avete fatto, attivate la campanellina, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ciao ragazzi alla prossima!